Da Piedimonte, Matese al Comunale, Pasqualino Ferrante per la seconda giornata di campionato e la corner Corvino sulla primo palo di Nardo di testa pallone fuori di pochissimo intanto la rimessa laterale battuta immediatamente a Boncheli allontana poi la conclusione al volo di Lesi esiste però Corvino, ancora Corvino, fa un numero in area di rigore Corvino Corvino prova ad andarsene da solo, poi si allunga un po' troppo il pallone benissimo dove c'è Mengani, il controllo di Mengani che prova ad andare da solo salta l'uomo Mengani che va sul fondo, la mette dentro di Nardo Palombo il calcio d'angolo l'ha stizzata, attenzione resta lì la rete a Boncheli, 1-0 1-0 Madi a Boncheli porta in vantaggio il campo basso dopo appena due minuti dall'inizio di questo secondo tempo Corvino, doppio passo di Corvino ancora Corvino, prova a fare tutto da solo Corvino, il sinistro Corvino fa il 2-0, 1-2 micidiale del campo basso 1-2 micidiale Corvino con un diagonale che non lascia scampo a Palombo il raddoppio del campo basso il pallone in avanti, anticipo di Nonni, partita perfetta di Nonni Corvino, punta l'uomo prova ad andarsene Corvino, ancora da solo Corvino, Corvino in area di rigore Corvino Corvino 3-0 3-0 di Corvino Maldonado, la punizione di Maldonado si stampa sulla traversa il pallone tre piedi del campo basso con Ercolano Ercolano in verticale si gira Abreu guarda la porta Abreu la conclusione di Abreu pallone terminato fuori di pochissimo e fischia il direttore di gara finisce qui 3-0 vince il campo basso questa seconda giornata di campionato altri tre punti per il lupo il gol di Abonchele la doppietta di Corvino forza lupo a te 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 lupo lupo forza lupo a te forza lupo a te